Ragazzi, buongiorno a tutti! Anzani, Giannelli, Sbertoli, Lavia, Micheletto e Galassi, voi sei, venite con me, oggi c'è un allenamento molto speciale, vieni, piano e precisi, fate uscire questa palla veloce, veloci, passala, passala all'ultimo momento, attacca Anzale. Vai, forza! Un bel polso, vai, Daniele! Sì! Ragazzi, sapete dirmi perché in Italia e nel mondo tutti amano così tanto la pasta? Perché è buona, coach! Perché è facile da preparare, coach! Perché è versatile, coach! Perché è economica, coach! Perché è altamente sostenibile, coach! Tutto giusto! La pasta è amica dello sport e della dieta perché è allo stesso tempo energetica e leggera. Poi c'è una cosa che forse non tutti sanno, la pasta è un vero integratore di felicità. Il motivo è tutto nel cervello, la pasta stimola le endorfine e contribuisce al nostro buon umore. Un vero e proprio effetto smile, coach! E allora, ragazzi, gustiamocela assieme questa pasta. Ragazzi, pronti? Ma è buonissima! Spettacolare! Proprio come piace a me! Bravissima! A pasta, integratori di felicità. Proprio come piace a me! E contribuisce al nostro buon umore. Però è carino! Ma non è che sono cresciuto, no? Che non me ne sono accorto. La pasta è un vero integratore di felicità. Immortaggia tua. Ci stai dietro. Ci stai dietro. Integratore di felicità. Mezzo passettino indietro. Ma questo è obbligatorio, questo. Perché è versatile, coach! Perché è economica, coach! Perché è buona, coach! La pasta, integratore di felicità. E sto! E buono! Sì! Grazie mille! Bravissima! Bravissima! Grazie.